Buongiorno a tutti quanti, oggi a Che Cose Tenerife parliamo di suoni. Mi trovo qui alla Sgaglietta dopo pausa a pranzo e in compagnia di questa giovane artista che sta apprendendo l'arte dei tamburi. Yes? Sì. Vale. Vengo maestro. Ciao. Ciao. Vale, vale, fantastico. Poi parleremo con il maestro. Grazie. Adesso parliamo, musicando, parliamo di discepolo e maestro che è una cosa importantissima. Se il discepolo non c'è, non c'è neanche il maestro. E allora, passione, entusiasmo, due parole magiche, parliamo di entusiasmo. Allora, il tuo nome? Martina. Ciao, Martina. Ciao, Martina. Ciao. Stai su una trasmissione che cos'è Tenerife e questo è un tutorial per le persone che ci stanno seguendo. le persone che ci seguono, per imparare a trionfare in tutto quello che facciamo, all'inizio dobbiamo avere due dote. entusiasmo perché si è entusiasmo e poi passione e acqua perché quando c'è senza acqua non si può fare. Allora, l'espressione del tamburo, per te che cos'è? Beh, oddio, ritmo. Ritmo. Tu stai ripetendo e la tua vita andare al ritmo perché musicando è suono. suono è vibrazione e noi siamo fatti di materia, tutto sta in vibrazione. Lei sta vibrando in questo momento. Certo, 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 lo dovrà ripetere tantissimo, come l'orecchino del Callori che significa 149.650 tagli di capelli. E adesso ascolteremo una performance, ritmo affigano, fatto con gioia di vivere, con entusiasmo, con passione. La passione, ragazzi. Bene. Ascoltare. Fantastico. Ognuno ha il suo ritmo. Allora, adesso abbiamo giocato, tra un momentino parleremo con il maestro. Ci vediamo tra un attimo. Ciao. Vale, vale, ciao, ciao. Eccoci con Daniele. Lui è presente di un attimo. C'è Daniele. Daniele. A Daniele non gli piacciono le interviste, però la mia domanda era chi sei, che cosa fai, qual è la tua filosofia? Allora, innanzitutto io sono un dreadmaker, creoro e restauro dreadlock. Come passione mi accompagna nella mia vita un gembe, che si chiama Bambara. è fatto in Africa con legno di ebano ed è sacro per la safari. Cerco di trasmettere la mia passione e di insegnare le mie amiche a suonare il gembe. Entusiasmo e passione, ricordatevi. Prima di tutto, nel cuore, sempre. Bene, e ci puoi far ascoltare qualche cosa? Un canzone al mio. Vale. Bene, insieme, ecco, perfetto. In diretta qui da Tenerife, la Scaglietta, ci troviamo nel paeseo marittimo, dove potreste anche incontrare questi due personaggi fantastici e vadano le musiche. Bene. Bene. Grazie. perfetto 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 grazie dell'ascolto ci vediamo alla prossima puntata con musicando pnl in canaria per essere felici sempre grazie ciao